E adesso arrivano i Beatles, arrivano con le chitarre e con le mogli, fanno corona attorno al loro maestro e decidono su come spendere il pomeriggio. Cantare sulle rive del Gange è un ottimo modo per meditare, suggerisce il Maharishi, così scendiamo tutti verso il fiume sacro. La cerimonia comprende l'offerta di vecchie e nuove canzoni. Due delle canzoni che ascolterete sono state scritte proprio in questi giorni anche se non c'è ancora l'arrangiamento. E il bagnarsi, se non proprio l'immergersi, nelle acque purificatrici del fiume sacro.